allora ti dico che non utilizzerei la parola paura forse magari un po contratta no perché il peso della responsabilità è tanta c'erano oggi c'erano tante cose in ballo c'era il nuovo allenatore i giocatori avevano io l'ho percepita come anche un attimino di magari frenesia perché affrontavamo una squadra forte ben messa in campo e ben allenata sicuramente e quindi c'era la voglia di quella come ti ripeto quella frenesia di fare bene però io non l'ho percepita paura anzi io ho visto ho visto una squadra coraggiosa certo dobbiamo migliorare tantissimo abbiamo fatto delle cose eccezionali l'atteggiamento mi è piaciuto della squadra non so io magari questa è stata la sua impressione però io dentro lo spogliatoio respirato forse un pizzico di tensione ti posso dare ragione però ti dico la squadra non io gli dico sempre c'è modo di vincere perdere pareggiare io alla squadra non gli devo rimproverare niente perché ha provato fino alla fine a vincere la partita hanno 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 sputato il sangue oggi e quindi sono veramente orgoglioso dell'atteggiamento della squadra ma si è lì a quel punto lì una volta che eravamo in superiorità dovevamo aprire il gioco cercare di creare l'ampiezza perché loro ovviamente si sono chiusi tutti dietro e sfruttare meglio questi questi due contro uno sulla fascia ci siamo riusciti però con meno qualità di quello che mi aspettavo perché a un certo momento quando eravamo sul due pari io Simone ha fatto una grande partita ma come hanno fatto una grande partita tanti giocatori però magari li tolgo anche nel momento migliore a volte posso anche sbagliare però in quel momento lì ho detto se la pareggio adesso avevo visto che Simone era un pochino va a sprazzi è un giocatore fantastico però ogni tanto va a sprazzi ogni tanto fa la cosa fantastica ogni volta ogni tanto torna indietro ecco è un peccato perché stavo stavo immaginando questa vittoria rimonta contro questa squadra purtroppo non ce l'abbiamo fatta ci abbiamo provato e insisteremo già da domani grazie grazie a te per la domanda adesso io sono arrivato da un giorno praticamente quindi non ho potuto lavorare su certi concetti e non ci potrò lavorare per almeno 20 giorni perché adesso giochiamo come ho detto ieri recuperiamo giochiamo e recuperiamo quello che gli posso trasmettere come ho detto già in conferenza stampa la voglia di provare a vincere tutte le partite mi espongo dicendo questo lo so la comunicazione è questa però se non ci siamo riusciti ci sarà ci sarà un perché ci lavoreremo per quello che riguarda le superiorità lì io gli dico sempre di uno contro uno non è che solito dell'allenatore dice torniamo indietro andiamo a puntare l'avversario andiamo a sfidarli come ho detto alla tua collega prima magari mi aspettavo qualcosina di più da Tanasi che ha messo due o tre belle palle magari aveva voglia di fare la partita perché poi Pipitone andava Tanasi faceva dare la palla lo poteva mandare ma poteva anche venire dentro magari loro si chiudevano allora chiuso in quel momento devi andare a cercare lo spazio dall'altra parte erano bravi si sono chiusi bene poi ho provato a riempire l'aria avete visto ho messo due attaccanti di peso in aria proprio per questa motivazione ho tentato di fare il tutto per tutto per provarla a vincere ci lavoreremo Pipitone è una scoperta fantastica non ho mai visto un 2004 ciare con questa personalità è una grande sorpresa quindi ci sono tantissime cose positive sono sono fiducioso molto fiducioso io lo ringrazio anzi scusami scusa che ti poi mi fa prego lo ringrazio perché ho trovato una squadra in una ottima condizione e lo devo ringraziare i giocatori sono forti Pipitone se l'ha scoperto Alfio mi fa piacere perché è un giocatore fantastico adesso però ci sono io e io ti dico quello che penso dei miei giocatori sì noi le dico non abbiamo iniziato con un 4 3 3 abbiamo iniziato con 4 2 3 1 l'avevo detto sì l'avevo detto in conferenza questa partita non è una partita meritocratica per i giocatori ho scelto i giocatori mi sono fatto aiutare da loro dall'ambiente li ho sentiti dovevo guardare recuperi perché hanno giocato tre giorni fa e magari qualcuno era affaticato ho cercato di mettere in campo una squadra su quello che avevo visto nell'ultima partita c'era Simone che aveva fatto gol e assist Falcone aveva fatto benissimo e quindi ho dato continuità a quest'idea io adesso ci lavorerò da ora in avanti però abbiamo tanti come ho detto ieri abbiamo tanti giocatori offensivi tanti esterni del 4 3 3 4 4 2 poi moduli non sono importanti però devo sfruttare bene questa rosa non posso mettermi a giocare con un sistema che non rende felice i miei giocatori per quello che riguarda la partita abbiamo iniziato bene è vero però abbiamo preso gol proprio nel nostro momento migliore quando eravamo c'è stata una palla inattiva inattiva si è fermato il gioco eravamo in 10 un attimo ti sto parlando del rigore non del primo gol perché il primo gol ancora lo devo rivedere non mi ricordo da dove è nato poi lo rivedrò e ti dirò però l'1 a 1 abbiamo pareggiato la partita e lì è un macigno cioè una squadra già che sta faticando a vincere una squadra che va sotto in casa e continua a provare a rimontarla ci riesce dopo un minuto e riprende subito gol è un macigno io tra il primo secondo tempo ai miei ragazzi perché poi lì ti viene la frenesia la velocità di voler rimontare la velocità che è una virtù genera un vizio si dice la fretta di fare le cose gli ho detto calma e forse magari anche sbagliando gli ho detto ai miei ragazzi adesso non è il momento di velocizzare la partita prendiamoci un passaggio più facciamo anche un giro palla in più poi è ovvio che la gente che guarda la partita vuole che la palla vada in avanti il più velocemente possibile si vede in tutti i campi di gioco giustamente però il giro palla è fatto in funzione di arrivare in uno spazio e quando quello spazio è libero allora è lì che devo sfruttare quella superiorità gli uno contro uno e tutte queste situazioni qua